Buongiorno a tutti carissimi amici, qui le nostre tartarughe stanno approfittando degli ultimi raggi di sole. Siamo al 10 di ottobre, ormai i movimenti sono più lenti, le nostre tartarughe mangiano più poco e non perdono l'occasione di prendersi gli ultimi raggi di sole. E qui c'è qualcuno che sta approfittando degli ultimi raggi di sole per fare qualcos'altro. Qui bisogna pensare alla progenie. Ecco, questo atteggiamento di mordere le zampe della femmina da parte del maschio è un tipico atteggiamento di una tartaruga che sta compiendo l'atto di riproduzione. Il fatto di mordere le zampe costringe la femmina a fermarsi e di conseguenza il maschio ha la possibilità di salire sopra il carapace e appunto accoppiarsi. Però qui ormai non fa più tanto caldo e quindi le nostre tartarughe hanno poche energie. Grazie. 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 Grazie a tutti. Benissimo cari amici, anche oggi vi saluto, spero di riuscire a fare ancora dei video, però tra un po' le nostre tartarughe andranno in letargo e quindi sicuramente dovrò diminuire la frequenza dei video. Però non vi preoccupate che ritornerò presto. Vi mando un caro saluto e arrivederci alla prossima puntata. Buona giornata a tutti.